Ma Rudy Michelini potrebbe correre... Alessandro Bugelli sta sorridendo, no? Siamo tutti sorridendo, perché la chiosa per passare dal gossip a questa faccenda di orsù che farà il buon Rudy adesso? Noi pensavamo ieri di Gennaro a una migrazione verso il WRC. Beh, non bisogna essere dei geni perché in virtù di quello che è successo, anche se fondamentalmente aveva già fatto un inizio gara con alcuni problemi, fra cui un lungo che portava ad avere oltre due minuti, quasi due minuti e mezzo di ritardo dai primi, e poi per una condizione proprio di ritiro volontario in virtù del fatto che ha avuto uno screzio, chiamiamolo screzio, dovuto al fatto che il regolamento diceva una cosa e non vederlo applicato era altresì un'altra cosa veritiera, ha portato all'abbandono volontario della gara di Rudy Michelini che l'ho scritto anche sui social, secondo me è stato un ottimo gesto sportivo perché non si può fare come gli struzzi, prima scrivere le cose e dopo far finta che non siano scritte. La realtà è questa, l'IRCAP è un insieme di gare private, e su questo lo sottolineo, gestito da privati, quindi se fanno un regolamento è giusto che questo sia applicato. Il fatto di non poterlo applicare perché magari un esorbitante numero di vetture non abbia accondisceso a un obbligo del regolamento non l'ho mai visto fare in altre gare, cioè praticamente modificare il regolamento in virtù di ciò che succede. Questo è un discorso del mio pensiero, dopodiché sono d'accordo nella scelta che ha fatto Michelini, soprattutto quando ha detto che questi episodi erano già successi anche gli anni scorsi. Quindi ora mi sorge la domanda, caro Alessandro, ma se fai queste regole e poi vedi che non sono osservate, ma cosa tieni a fare nel regolamento una regola così? Il problema infatti, secondo me, sta nel mezzo e sta a monte. A monte, alla luce di quello che è accaduto, sia da parte di Rudy che da parte anche poi del gruppo di lavoro dell'International Rally Cup, il problema è quello che la regola andrebbe tolta, questa regola appunto a dire che penalizzerebbe in questo caso coloro che non osservano l'articolo numero 6, mi pare sia del regolamento, che in questo caso non sono andati a fare il refueling, il cosiddetto rifornimento. Allora, sicuramente Rudy ha avuto piena ragione, perché se c'è un regolamento lo deve rispettare, è come quando arriviamo al semaforo, se c'è il regolamento che dice che con il rosso ci si deve fermare, non vedo perché devi passare, a prescindere che poi magari succeda il disastro. Se c'è una regola, se c'è il cartello di vieto di sosta e te metti la macchina nel vieto di sosta, poi ti sanzionano, c'è il cartello. E va rispetto. No, ecco, io poi mi metto anche, io sono uno che cerca sempre di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte in questi casi, penso anche a quello che ha pensato in questo caso il gruppo di lavoro dell'IRCUP, che sanzionare pesantemente all'inizio del campionato 47 equipaggi, che hanno fatto peraltro una trasferta molto onerosa, non sarebbe stato sicuramente positivo. Forse avrebbe fatto anche perdere qualche cliente, forse, che magari poteva decidere di migrare in altri campionati, come sicuramente farà Rudy. Rudy adesso è un po' amareggiato, ovviamente, da tutto quello che è stato l'accadimento. Poi ci sono anche i progressi del fine campionato dello scorso anno, i chiodi, eccetera, eccetera. Insomma, no, tutti veleni più o meno latenti, veleni che comunque rimangono nella mente delle persone. Cosa farà Rudy adesso? Rispondo alla domanda di Gabriele. Non si sa. Dovrà decidere insieme ai suoi partner, dovrà decidere insieme al suo copilota, insomma, dovrà fare mente locale per quello che potranno essere le possibilità di partecipazione da qui alla fine dell'anno. Non si esclude niente, però per adesso non ci sono certezze. Non metto insieme un puzzle. Io credo che lo vedremo all'Elba. Ma per quale motivo? Ma ne parlavamo prima, telecamere spente. Corre per un team RF che ha sponsorizzato Bardal. La Bardal è il main sponsor del trofeo dell'Elba e anche di tante altre gare che ultimamente si stanno diffondendo. Non ultimo è stato il main sponsor del Rally del Ciocco, dove Michelinia ha stampato un bellissimo secondo posto assoluto. Il fatto stesso che abbia deciso di ritirarsi dall'Air Cup, non credo che la sua stagione finisca qui, ne tantomeno voglia, voglia, il buon Rudy Michelini e il buon Michele Perna, vogliano aspettare di fare sempre le solite gare del campionato regionale. Perché secondo me sarebbe una dimensione che ormai non gli appartiene più. Quindi secondo me se lo dovessimo vedere fra gli iscritti e fra i partecipanti del campionato VRC, non vedo cosa c'è di male. Anzi, sicuramente rinfoltirebbe un già buon parco partente. Sai, io personalmente Rudy lo vedrei bene nel campionato italiano, perché i risultati che ha fatto ultimamente al Ciocco, a parte l'ultimo, ma anche… Eh, però lui l'ha già detto che per fare il budget del campionato italiano… Perché ha fatto vedere i numeri, sì, appunto, per concorrere nel trofeo regli asfalto. Ma comunque il valore del pilota dell'equipaggio secondo me ci sono per poter aspirare anche a un podio assoluto o vicini a un podio. Non è che… perché poi ecco tu mi insegni che il campionato italiano poi quest'anno soprattutto sarà molto, no, equilibrato, molto con un punto interrogativo in più di una gara. Per cui, però anche una dimensione del campionato italiano VRC non la vedo male, insomma, anche perché… Sta di fatto che poi partirà dall'Elba, sta di fatto che, ovviamente, non si sa per quale motivo, ma ve lo posso confermare, Ale Bugelli sarà responsabile dell'ufficio stampa. Ovviamente il buon DJ e il buon Miki saranno presenti sull'isola per fare dei bei servizi il più possibile anche su questa gara, che personalmente ce l'ho nel cuore dai tempi di Dada Andreini. E poi, ragazzi, l'Elba è veramente l'Elba, cioè è una cosa… Quando sbarchi senti già il profumo di rally, per cui la realtà è questa. Fondamentalmente, insomma, se mettiamo insieme i vari scacchi, diciamo che il puzzle l'abbiamo… Torna. Eh? Torna.